Ancora sangue sulle strade abruzzesi. Nel drammatico scontro frontale tra due autovetture avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 17 nel comune di Barisciano in provincia di L'Aquila hanno perso la vita Maria Concetta della Valle, 51 anni, di rapino in provincia di Chieti e sua figlia Santa Medaglia, 24 anni, neolaureata in scienze infermieristiche. E salvo per miracolo anche se ricoverato all'ospedale di L'Aquila il capofamiglia Lorenzo Medaglia, 57 anni, che era alla guida della Hyundai con cui la famiglia si stava recando all'ospedale San Salvatore per far effettuare una visita di controllo a Maria Concetta della Valle e che in vano ha tentato di soccorrere i familiari intrappolati nell'autovettura che è andata in fiamme. Ancora da accertare le cause del frontale con una Ford Focus Station Wagon alla cui guida c'era Nicolino Antolini, 54 anni, originario di Popoli, anche egli ricoverato in ospedale ed operato d'urgenza per i traumi riportati a seguito dell'impatto. La procura del capoluogo ha aperto un fascicolo d'indagine per accertare quale delle vetture abbia invaso la carreggiata opposta e perché la vettura della famiglia Medaglia sia andata in fiamme. Per tutto il pomeriggio la strada statale 17 rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi causando disagi alla circolazione ed una coda di 5 chilometri. La notizia dell'incidente ha sconvolto la piccola comunità di Rapino e sono tanti i messaggi sulla bacheca Facebook di Santa. Lorenzo Medaglia, il capofamiglia, era dipendente del comune vigile urbano. Il sindaco del piccolo centro in provincia di Chiedi, Rocco Micucci, per il giorno dei funerali, che resta ancora da stabilire perché si attende il via libera della magistratura, ha indetto una giornata di lutto cittadino.